non ci sia intenzione di modificare le disposizioni e comunque insomma rimarremo vigili rispetto al funzionamento degli hotspot che voglio ripetere e sottolineare anche in questa occasione anche per le questioni sollevate da questa interpellanza noi continuiamo a ritenere che debbano essere assolutamente chiusi. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.514 dei deputati Pili e Pisicchio concernente chiarimenti in ordine ai poligoni militari presenti in Sardegna e alle connesse esigenze di bonifica ambientale chiedo al deputato Pili se intende illustrare la sua interpellanza. Prego onorevole, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questa interpellanza non vuole essere un semplice atto di sindacato ispettivo è un atto per fare chiarezza, chiarezza su tutto quello che è accaduto, che sta accadendo per portare in quest'Aula, nel massimo consesso parlamentare, questioni delicate, questioni di morti, di vittime, di questioni secretate in alcuni casi, violate, nascoste e che devono essere affrontate qui, ora, alla luce del sole. Dunque, questa interpellanza ha due obiettivi fondamentali. La prima è la necessità di fare chiarezza, di avere risposte dal Governo, un Governo che continua, così come tanti altri governi hanno fatto, a sfuggire e a non dare risposte su temi, su questioni che hanno rilevanza straordinaria nell'impatto sui civili e soprattutto sui militari. È l'obiettivo di squarciare un velo pesante, pesantissimo oserei dire, di omertà su quanto è accaduto e su quanto sta accadendo all'interno di vere e proprie zone franche del nostro Paese, dove succede di tutto e di più, dove si cerca ogni stratagemma per vietare e per impedire di conoscere, comprese le inchieste che vengono portate avanti dagli organi parlamentari. Parlamentari che vengono sottoposti a controlli rigidissimi, con limitazioni totali al potere ispettivo, per le quali anche la Presidenza della Camera sarebbe chiamata ad agire, a chiedere il rispetto delle prerogative ispettive del parlamentare. Vedasi il tentativo ultimo di trasformare in una scampagnata la missione della Commissione d'inchiesta un anno impoverito, il divietto apposto per l'ingresso a Guardia del Moro alla Maddalena, con la Commissione che ritira la sua delegazione, che lascia i locali militari perché dichiara di essere impedita nello svolgimento della sua attività. È questa interpellanza utile per dire che non tutti accettano il silenzio, che non tutti accettano le pacche sulle spalle e gli inviti conviviali nei circoli degli ufficiali. Ci sono troppe vittime, ci sono migliaia di militari e civili che chiedono risposte su quanto è accaduto per precise responsabilità dentro i poligoni militari della Sardegna, innanzitutto, e nei teatri di guerra, familiari di migliaia di vittime che inseguono giustizia e verità sulla morte dei propri congiunti. Ci sono poi processi, processi condizionati da omertà, da falsità, da manipolazioni e connivenze di ogni genere. Spero che in questa occasione dal Governo giungano risposte disponibili a fare chiarezza. Per quanto mi riguarda, ad omissione ulteriore risponderò con atti e, se necessario, con elementi che riguardano atti stessi che qualcuno vorrebbe tenere segreti o nascosti. E poi serve la verità sulle servizioni militari in Sardegna. Una continua e invasiva occupazione della Sardegna senza motivo. E ora che emergono in modo sempre più evidente i misfatti di Stato dentro quei poligoni, si deve porre con forza il tema della dismissione di tutte quelle attività invasive e devastanti dell'ambiente e del territorio e che hanno minato e che minano la salute dei militari prima di tutto e dei civili. Un Governo anch'esso latitante, che risulta ormai dall'ultima conferenza di Stato sulle servitù militari sfuggente, hanno concordato con la Presidenza della Regione di non firmare l'allora accordo nella conferenza Stato-Regioni per le servitù militari e da allora ormai quasi tre anni si va avanti senza definire alcun tipo di ulteriore azione che possa dare risposte sia sul piano ambientale, sul piano della sicurezza, sia del riequilibrio della distribuzione delle servitù militari in Italia. E poi serve un'azione puntuale che riguarda fatti contingenti ma che fanno parte di un filo rosso della conduzione autoritaria, e uso questo termine da parte del Ministero della Difesa del territorio della Sardegna, a partire da quello che sta accadendo a Capofrasca, con centinaia e centinaia di pescatori che da settimane occupano gli specchi acqui non per rivendicare indiennizi ma per chiedere la pulizia del mare e la libertà nei cieli di quel territorio, devastati e in qualche modo vietati ai civili, ai lavoratori del mare da troppo tempo. E chiedono, non indennizi, così come qualcuno nel Governo o nella Regione tenta di banalizzare facendo perdere la dignità alla protesta, ma chiedono, è scritto in maniera chiara nel baluardo della loro protesta, di liberare i mari perché vogliono riprendere a lavorare onestamente, senza limitazioni. A Capofrasca è l'unica realtà dove esiste il vieto perenne e viene soltanto concesso con ordinanza la possibilità di utilizzare gli specchi acqui. Così come c'è un tema che va risolto, dove l'omertà intanto parlamentare non può essere accettata. Ci sono 4.200 missili Milan che mancano all'appello. 4.200 missili Milan esplosi contenenti Torio, esplosi nell'area del poligono di Teulada, 7.200 ettari e non solo nella penisola interdetta perché la Procura della Repubblica ha accertato che ci sono almeno altre 3-4 zone dove sono stati esplosi quei missili e dove è stato rinvenuto Torio e dice la Procura ad elevata radioattività. C'è scritto negli atti parlamentari della Commissione d'inchiesta, si parla di elevata radioattività e ne parlano i funzionari della Procura della Repubblica e ne qualcun altro. mancano risposte sui 4.200 missili Milan. Che fine hanno fatto? Se è vero che ne sono state trovate soltanto 19 di parti residue di quei missili Milan radioattive, altamente radioattive, dice il report consegnato alla Commissione d'inchiesta, uranio impoverito della Camera. E poi, che dire di un deposito di scorie radioattive dichiarato, registrato, verbalmente registrato dal sottoscritto in una conversazione che doveva restare segreta con il comandante del poligono militare di Teulada, in cui dice questo è un deposito temporaneo di scorie radioattive. Da quanto è temporaneo? Da due anni e mezzo. E dentro quel poligono c'è un deposito di scorie radioattive di quei 19 missili rinvenuti. E nessuno sapeva niente. E anzi, il Ministero della Difesa ha anche minacciato, e spero che lo faccia, di denunciarmi per aver violato chissà quale segreto di Stato, mostrando le immagini di quel deposito in quel locale fatiscente, privo di qualsiasi tipo di pericolo, di qualsiasi tipo di precauzione sul pericolo che transita in quell'area. E poi c'è la penisola interdetta, cioè la porzione più estrema dell'Italia, anzi aggiungo della Sardegna, anzi tolgo Italia e dico Sardegna, dove c'è una penisola che è definita interdetta, cioè dove non ci si può più andare, perché vi è una devastazione tale per cui l'uomo non può più accedere, dove non è stato fatto niente per alcun tipo di bonifica. È stato aperto un camminamento, è stato tolto qualche bomba inesplosa lungo quella penisola interdetta, ma si dice che lì siano stati esplosi gran parte di quei 4.200 missili Milan, quindi con un aggravante sul piano radioattivo che riguarda quella zona a contatto con le più belle spiagge della Sardegna e del Mediterraneo, anch'esse interdette, dove niente viene detto, gli stessi militari, i generali nella disposizione scrivono interdetta, e cioè preclusa, secondo i loro calcoli non può essere più recuperata. E poi ci sono i fatti omessi, quelli di Quirra per esempio. È vero o non è vero che a Quirra sono arrivate colonne infinite di tir carichi di armamenti, di bombe, di missili, di quant'altro proveniente da tutto il Sud Europa per essere smaltite clandestinamente, prive di qualsiasi regola per farle esplodere sottoterra e per creare poi nubi tossiche che hanno pervaso l'intera zona. È vero o non è vero? Perché si continua a negare? Perché il Ministero della Difesa non prende coraggio e dice che è avvenuto realmente questo. E se oggi arriverà, come credo, la smentita, allora sarà il caso di dimostrarlo, quello che è avvenuto, di dimostrarlo con gli atti, con le immagini, con le dichiarazioni che sono state pure rese. E poi c'è un altro aspetto del sistema bellico del nostro Paese, la commissione degli interessi tra chi guida le forze armate, generali, che negli anni hanno lasciato ruoli di primo piano da capi di Stato Maggiore della Difesa, Aeronautica e via dicendo, per acquisire in carichi di primo livello, Presidenti, Amministratori, Delegati, delle più grandi industrie di armamenti. Per esempio, coloro che hanno prima acquistato da generali i missili Milan, poi sono diventati stranamente, Presidenti, Amministratori, Delegati, delle stesse società che vendevano quei missili Milan. Tutto questo non può essere assolutamente sottaciuto e non può ancora rientrare nel novero delle non risposte di questo Governo. E poi ci sono le bonifiche, bonifiche che non esistono da nessuna parte, se non quelle farlocche che si stanno facendo a Capofrasca, dove la società incaricata di realizzare queste bonifiche. È la Vitrociset. Per chi conosce lo scenario militare e dell'Aeronautica sa che la Vitrociset è la più importante società che opera col Ministero della Difesa nella ricerca tecnologica applicata agli armamenti. Cioè una società di grande livello tecnologico. Ebbene, di cosa si sta occupando a Capofrasca? Ha vinto l'appalto per il movimento terra per la bonifica di una decina di ettari dentro quel poligono. Stranamente non hanno trovato nessuna sostanza, hanno trovato amianto. Ma come c'è entrato l'amianto? Forse una lastra per trasformare 10.000 tonnellate, metri cubi di terra in terra inquinate e quindi per far lievitare l'appalto? Occorrono risposte molto chiare e molto nette. Così come a Teolada ho già detto non c'è stata nessuna bonifica. Non c'è stata nessuna sostanziale bonifica a Quirra, se non nella discarica di Spiviris, che era frontestrada e quindi disturbava sostanzialmente l'occhio e quindi si è provveduto a una bonifica. E poi c'è, e concludo questa illustrazione, il tema della nuova difesa. È necessario quello che sta avvenendo in queste ore in Commissione Difesa, acquistare 530 milioni di euro di nuovi carri armati, prodotti sotto casa, per armare il nostro Paese, il vostro Paese. Perché è evidente da questo punto di vista che sono soldi che servono per armare l'industria bellica e non invece per dare più remunerazione magari ai militari, per pagarli meglio, per trattarli meglio e per dare risposte sul piano della bonifica. È anche di quel nuovo tipo di struttura della difesa che deve essere più a servizio del cittadino, più civile, più genio militare. In Sardegna non c'è la protezione dagli eluvioni, dagli incendi, quando invece tutti i militari potrebbero essere anche rifunzionalizzati, anche rispetto a quella difesa diretta, a contatto così come è stato, così come avviene, da strade sicure alla partita di Forza Baris che ha visto i militari impegnati in una straordinaria missione per difendere le terre e le popolazioni di Sardegna. Serve un investimento sul piano del personale militare, non nell'acquisto di questo tipo di armamenti. E quindi è evidente che su queste questioni serve una risposta limpida, serve una risposta puntuale del Governo. Perché è evidente che se questo non dovesse avvenire si aprirà un conflitto, non solo parlamentare, ma con l'opinione pubblica, per dimostrare con atti alla mano quello che realmente è avvenuto. Fatelo voi. Faccia il Governo un bagno di umiltà e di verità e di giustizia e risponda a quelle partite che sono davanti agli occhi di tutti. Ci sono migliaia di vittime che attendono risposte. C'è una Sardegna devastata a colpi di mortaio che chiede risposte e rispetto. E' questo quello che io mi attendo da questo Governo, mi attendo in questa risposta ed è anche evidente che se non arriveranno dovremmo trarne tutti le necessarie conseguenze. Grazie Onorevole Pili. Il Sottosegretario per la Difesa, Domenico Rossi, ha facoltà di rispondere. Prego, Sottosegretario. L'Onorevole Pili sicuramente concorda con me che dopo circa 20 anni questo Governo nel 2014 ha rinnovato per la prima volta la possibilità di un confronto tra lo Stato e le regioni maggiormente oberate di servitù militari. Una conferenza Stato-Regioni che ha portato poi a firmare due protocolli con il Friuli e la Puglia ed ha invece avviato la possibilità di un confronto con la regione Sardegna.